Buongiorno a tutti, sono Giulia dalla farmacia Fiorillo di Marina di Carrara. Oggi vorrei condividere con voi le misure igienico-sanitarie del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020. È importante lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni acute e respiratorie, evitare abbracci e strette di mano, mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro, Starnotire e o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprirsi la bocca e il naso se si starnotisce o si tossisce, evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante le attività sportive, non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta l'assistenza a persone malate. Ci teniamo inoltre a ricordarvi il divieto di permanenza nelle sale d'attesa per gli accompagnatori, la limitazione delle visite apparenti in strutture sanitarie e uscite limitate per gli anziani in caso solo all'aria aperta. Per concludere, per qualsiasi dubbio o informazione potete contattare il numero di pubblica utilità 15 00. Buona giornata! Grazie a tutti!